Inquinamento ambientale a Fontanelle causato da uno scarico fognario al di sotto della ferrovia tra la via Unità d'Italia e la via Alessio di Giovanni. Una vasta area che ieri fino a tarda sera è stata interessata da una forte esalazione scampiata per fuga di gas. Scattato l'allarme sono giunti sul posto nel primo pomeriggio i tecnici di Italgas, qualche ora dopo i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno ispezionato gli allacci del gas dei condomini e i tompini. Un lavoro scrupoloso seguito con apprezzione dai residenti che alla fine hanno tirato un sospiro di sollievo quando i vigili del fuoco sono risaliti alla causa degli strani odori che in poco tempo hanno reso l'aria irrespirabile. Una presenza rassicurante sia quella dei vigili del fuoco che dei tecnici dell'Italgas che non si sono risparmiati nelle verifiche, ma come sempre sono i vigili del fuoco preziosi nei loro interventi. Sul posto anche un dipendente dell'Aica e a proposito di Aica, visto che per fortuna di puzza di fogna si è trattato, c'è da dire che finora non si è stati in grado di risolvere l'annosa questione dello scarico fognario che risale ai tempi di girgenti acque, che ha lasciato praticamente inascoltati le sollicitazioni dei cittadini, costretti d'estate addirittura a stare con le finestre tappate per la forte puzza di fogna. Anni di inutile attesa, adesso la palla passa proprio all'Aica che deve sopperire con urgenza alle gravi carenze della precedente gestione. Ieri sera ci siamo messi in contatto con il responsabile del servizio alla luce di quanto accaduto e della causa che ha fatto vivere momenti di paura ai cittadini interessati. A quanto pare per intervenire serve l'autorizzazione delle ferrovie, visto che il famigerato Pozzo Nero si trova al di sotto dei binari, ma alla gente di Fontanelle non interessa il tipo di lavoro da effettuare, alla gente interessa che da oggi in poi arrivino risposte da chi ha il dovere di porre fine dopo quasi un decennio al problema che mette a rischio la salute dei cittadini.